Diciamo che Gupio Città del Natale non nasce quest'anno, questo dobbiamo darne atto a tutti i protagonisti e tutte le persone che hanno lavorato su questo prodotto ormai da diversi anni. Non dimentichiamoci per primi tutti gli alberaioli perché l'idea dell'albero di Natale è stata sicuramente una delle calamite, uno dei volani più importanti per questo periodo. So benissimo che senza comunicazione e senza promozione puoi avere anche delle perle in mano ma non ci fai nulla. Quindi secondo me la campagna fatta dalla regione dell'Umbria ha avuto un'importanza fondamentale. Negli autobus a Roma era presente l'Umbria come destinazione Natale, l'albero di Natale in queste pubblicità ha girato tantissimo anche se tutta l'Umbria ha lavorato molto bene. Questo ha lavorato bene Spoleto, ha lavorato bene Perugia e quindi l'Umbria su questo ha risposto benissimo. Quindi secondo me questo è stato sicuramente uno dei tasselli più importanti sulla promozione della destinazione Umbria. Le nostre calamite quest'anno erano a posto, era posto albero di Natale e soprattutto era posto la città, una città accogliente, una città che era nella sua bellezza perché noi sappiamo che Gubbio è una città accogliente e stupisce, stupisce chi arriva per la prima volta, ci si trovano bene le famiglie perché i bambini si divertono a Gubbio con i suoi vicoli, le sue stradine, quindi è una città a dimensione famiglia. Queste cose non ce le dobbiamo dimenticare perché il nostro prodotto deve essere calibrato in questo senso. Grazie al volontariato dei cittadini e dei commercianti in alcune zone, così si è lavorato sul tema dei presepi, sul tema appunto di questa città un po' fiabesca e il Natale è questo, è la fiaba, il Natale è la fiaba. Quindi ha fatto sì che chi arrivava si è trovato molto bene. Io ho dei riscontri positivissimi da un punto di vista proprio di turisti che sono venuti per la prima volta e si sono proprio trovati in questa culla e hanno goduto della loro vacanza.